Bella gente, come su e bene va, e beremo l'anno totilo, auguro e felicità, e beremo l'anno totilo, auguro e felicità. Grazie per l'accoglienza storica di Piazzetta San Antonio, scusatemi, Piazzetta San Antonio, colgo l'occasione, cupido, di salutare il nostro amico Claudio Saltarelli, presidente dell'Associazione Alcena di Lavoro, che viene da Cassino per partecipare al nostro pubblico, e alla sua splendida moglie che l'ha con tanta pazienza, lo seguo molto. Allora, è una gioia ritrovarci qua, per noi Piazzetta San Antonio ha un significato particolare, e purtroppo ogni anno qualcuno manca all'appello e canteranno con noi. Allora, ci siamo? Siamo venuti a posta, quindi cantiamo. 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 Grazie a tutti. 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 Allora, siamo pronti? Ma ci aiutate un po' a cantare il buco buco cellulese? Non lo dobbiamo cantare solo noi. Cambiamolo tutti insieme, no? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.